La corruzione spuzza di Raffaele Cantone apre l'edizione 2018 di un libro in salotto. L'appuntamento letterario si è tenuto sabato 27 gennaio a Palazzo San Teodoro. Al dibattito, condotto dal direttore del Tg La Sette, Enrico Mentana, sono intervenuti il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e il PM della procura di Napoli, Henry John Woodcock. L'idea è quella di ricreare le atmosfere di un salotto privato aperto al confronto tra scrittori e lettori, con il contributo di invitati del mondo napoletano e campano delle professioni, delle università e delle istituzioni culturali. Un libro in salotto, format letterario ideato e promosso dall'Agenzia Sud Comunicazioni, diretta dalla giornalista Rossana Russo, è giunto al quinto appuntamento e rappresenta un contributo della società civile al dibattito sui temi che riguardano il quotidiano, ma anche il futuro della città e della regione. Il libro di Cantone ha rappresentato un innesco per la discussione che si è incentrata soprattutto sulla corruzione e sui problemi della burocrazia. È un libro importante perché parlare di corruzione con autori così qualificati è fondamentale. La vera questione italiana è la questione morale. La penetrazione della corruzione nelle istituzioni, e uso volutamente il termine istituzioni, non solo politica, perché nelle istituzioni fa parte la politica ma c'è anche altro. Io per esempio ho conosciuto tanta corruzione nella magistratura quando stavo in Calabria e penso che da magistrato l'ho visto nell'aspetto patologico, cioè quando il reato è commesso. E da sindaco sto facendo di tutto per prevenire ed evitare che la corruzione possa inquinare le istituzioni che uno rappresenta. Chiaramente l'azione preventiva è più importante. Tutti i libri che poi sono stati scritti su questo argomento induce alla riflessione, alla considerazione. Quindi secondo me qualsiasi spunto per parlare, per confrontarsi su questo tema, secondo me è straordinario. Poi nel libro stesso ci sono anche degli spunti interessanti, si parla di corruzione dei magistrati. E quindi insomma è ancora più vivace il dibattito che ne discenderà stasera, secondo me. Io credo che questa sia stata una legislatura che però si è parlato molto di corruzione e si è anche fatto molto. Ovviamente il punto vero è quello di provare a non ritornare dietro, non fare come la solita tela di Penelope che si ricomincia da zero. Io credo che in questa legislatura sono state fatte anche un po' con meccanismi bipartisan, molti interventi positivi e bisogna poi seguire con quella strada. L'informazione deve rendere conto dell'importanza e del peso del fenomeno. E questo per aiutare a aprire gli occhi. Poi io non penso che ci sia nessun corrotto che si impaurisce perché sente informazioni sulla corruzione. E questo è il problema. La corruzione purtroppo è molto spesso una congiunzione di interessi. Bisogna creare una competizione di interessi per cui il corruttore magari ha interesse a corrompere, ma è colui che si aspirerebbe a corrompere che deve avere l'interesse a non farlo. Questa è la questione. Il confronto è stato introdotto dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, con i saluti del magistrato Aldo De Chiara. Le letture curate dall'attrice Antonella Stefanucci. ...incapace di ordinare la demolizione di edifici non solo costruiti abusivamente, ma pericolosi. È la cultura della speculazione edilizia.